La rassegna stampa è offerta da Mercoledì 27 agosto, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le principali notizie della giornata di oggi. Iniziamo con il quotidiano nazionale romano Il Messaggero, case e trasporti, ecco le novità. In arrivo lo sblocca Italia, semplificazioni per l'edilizia, ecco bonus e sconti IRPEF per gli affitti. Nuove linee ferroviarie, rilancio dell'alta velocità e autostrade sul mercato, società pubbliche. In retroscena il premier stanco dei diktat tedeschi, flessibilità, saldo, l'asse con Parigi. La stretta sulle intercettazioni, filtri per appello e cassazione, tiene l'intesa fra PD e Forza Italia sulla riforma della giustizia. Quota 96, scuola, la campanella suonerà per i 4.000 pensionati mancati. Sulla sinistra, cronaca internazionale, Gaza ha vinto la mediazione egiziana. Tregua fra Amasa e Israele, il cessato e il fuoco durerà. La Gazzetta del Mezzogiorno resta impigliato nelle reti un subbo di 54 anni, muore nelle acque di Casalabate. Tragedia nel Salento, la vittima originaria di San Pietro Vernotico. Verso le regionali 2015, PD Puglia per le primarie battaglia sul doppio turno. Minervini elenchi degli elettori in comune col centrodestra, Emiliano, spinta dalla BAT. In basso a destra, Lecce, ricerche in tutta Italia, ha uccise il fidanzato e fuggita dal carcere col nuovo compagno. La Gazzetta di Lecce, tragedia a Casalabate, un sub muore impigliato nelle reti. La vittima è Giovanni Bagordo di 54 anni, originario di San Pietro Vernotico. Taglio centrale, il fenomeno Salento da amare, non da bere, turismo maleducato. Il prefetto Giuliana Perrotta propone un confronto con le istituzioni. Lecce, cronaca, tentato stupro a studentessa, caccia al maniaco. Taglio basso, festa giallorossa, bagno di folla per il nuovo Lecce, tesoro, torneremo nel calcio che conta, mercato, preso, carini. Nuovo quotidiano di Puglia, in piazza contro il turismo caos, manifestazione a Gallipoli, il prefetto avverte, basta col Salento da bere. Guerra alle vacanze senza regole, preoccupa anche l'enorme folla che assiste alla notte della Taranta. La lite per i lavori al Via del Mare, monosi, tesoro si calmi, lo stadio potrebbe costargli anche un milione l'anno. Taglio centrale, paura a Lecce, aggredita in strada, in piena notte, quell'uomo voleva violentarmi, caccia all'aggressore fuggito in seguito alla reazione della ragazza. Galatina incidente alla Colace, operaio travolto da un muletto. Casa Labate, ma l'ora in acqua durante l'immersione, muore un sub. Furto nel centro storico di Lecce, ladri nel palazzo nobiliare, rubate due antiche tele. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, la scuola dei tablet conquista Chicago, metodo tradizionale, metodo iPad studiati dall'Ateneo, e lo scarambone diventa modello per gli esperti USA. Le vacanze della discordia, l'allarme del prefetto, basta Salento da bere, modello da ripensare, la perrota dopo la notte, troppo alcol nelle grandi folle, bisogna cambiare tendenza. L'intervista, pronti a combattere gli eccessi, ma la taranta non si tocca, critiche proposte, parla Massimo Manera, presidente della fondazione. In piazza Gallipoli basta turismo caos, stasera la manifestazione, comune sotto accusa e oggi il comitato di liberazione approda in Rai. Gli operatori, presenze e arrivi ci premiano, non demonizzino, non demonizziamo gli ospiti, gestori delle strutture dicettive preoccupati per il danno d'immagine. Il comune, tesoro si calmi o l'affitto costerà un milione, monosi al contrattacco dopo la polemica sui danni, pagano solo 8 mila euro, la smetta con le polemiche. Il patron, ma ora basta, liti e la politica si spacca, il presidente in piazza, maggioranza e opposizione divise. Feste gemellaggi, tosi, evento col Salento all'Arena di Verona, la nuova sfida del sindaco leghista dopo le polemiche, darò gratis il monumento. Arte a ruba, colpo in casa di una nobile, rubate due preziose tele, via con quadri di inizio 900, danni per 100 mila euro. Concludiamo infine con lo sport, la riammissione sarà ufficializzata sul filo di lana, entro venerdì mattina il verdetto della FIGC. Parla intanto l'attaccante della Rocca, il Lecce in B, noi pensiamo alla lupa Roma, ci stiamo preparando al meglio per il debutto. E intanto ieri sera in piazza Santo Ronzo la presentazione della squadra, tifo alle stelle nel cuore di Lecce. Ovazione per i tifosi, per l'Epore, Moscardelli e Capitano Miccoli. Cori per tesoro che annuncia abbiamo preso un difensore. Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi diamo appuntamento a breve con TG News 24, buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da... La rassegna stampa è stata offerta da...